Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come Allo stadio Via del Mare il Lecce di Baroni ospita l'Inter di Simone Inzaghi nella prima giornata della Serie A, 2022-23 Dopo due stagioni in Serie B, i Salentini sono tornati nella massima serie vincendo all'ultima giornata il campionato della passata stagione I Nerazzurri hanno invece perso la Serie A, solamente all'ultima giornata e quest'anno vogliono riprendersi lo scudetto Punto In estate il Lecce ha operato una piccola rivoluzione, sono andati via Calabresi, Coda, Lucioni e Gabriel, al loro posto sono arrivati Frabotta, Cisei, Cettine e Falcone Che dunque curiosità per vedere all'opera il nuovo Lecce di Baroni? Punto Dopo la mancata vittoria del campionato, la dirigenza Nerazzurra ha regalato a Inzaghi Lukaku, Mkhitaryan, Onana, Asolani e Bellanova In uscita hanno invece salutato Perisic, Vidale e Sanchez. Lecce Inter, le formazioni ufficiali Lecce, 4-3-3, Falcone, Gendri, Cetin, Baschirotto, Gallo, Bistrovic, Agilmend, Gonzales, Strefezza, Cisei, Di Francesco All. Baroni punto a disposizione, Bleve, Brancolini, Colombo, Di Mariano, Elgazon, Listkausecchi, Banda, Frabotta, Ciucci, Blin, Woeckerling, Berisha, Lemmens, Rodriguez Punto Inter, 3-5-2, Andanovic, Skriniar, De Vrij, Di Marco, Darmian, Barella, Brozoic, Ciannolo, Gosens, Lukaku, Lautaro All. Inzaghi punto a disposizione, Kordaz, Onana, Domfries, Gagliardini, Gekow, Corea, Bellanova, Asolani, Mkhitaryan, Zanotti, Fontanarosa, Bastoni Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Grazie